Benvenuti in questo video, oggi vediamo su Destiny 2 i rinnegati come ottenere la pistola di Cade asso di picche, innanzitutto dovrete aver finito la storia principale dei rinnegati una volta completata, venite sull'ottore e andate da Banshee, il quale vi darà un'impresa dove appunto dobbiamo reclamare la pistola di Cade, una volta ottenuta questa impresa dovremo compiere 5 uccisioni in azzardo con il canone portatile, aspettate che un nemico invada e fate o headshot oppure in qualsiasi punto del corpo in cui lo prendete, va bene, basta che non fate assist perché non ve le conta, una volta completato anche quello step dovrete fare 250 uccisioni negli assalti sempre con qualsiasi canone portatile in testa oppure in qualsiasi parte del corpo del nemico. Completato anche il passaggio precedente dovremmo fare 25 uccisioni con headshot nel crogiolo, io ho usato la Sturm perché in tre colpi davvero è molto forte a qualsiasi luce che voi la utilizziate. Ora dovremo trovare quattro casse su io, nessus, riva contorta e la zona morte europea, su questi pianeti c'è una sola cassa, ve le metto in ordine un pochettino più veloce perché sono abbastanza lunghi i percorsi, però ve le metto in ordine come da l'impresa, quindi io, nessus, la riva contorta e la zona morta europea. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Infine come ultimo step dovremo raccogliere altre 10 casse in questa missione Asso nella manica, due destratenti che sono molto nascoste, soprattutto in punti elevati dove ci sono delle bolle arancioni, delle uova di schiavo, una cosa del genere. Purtroppo non sono riuscito a registrarlo per causa memoria della playstation. Infine otterrete la su di picche che è l'arma di Cade, molto devastante sia in crogiolo che in pvp. Grazie a tutti.